Grazie, sono contentissimo di questo risultato, lo aspettavo e soprattutto lo volevo qui a Misano. Sono riuscito a fare un giro molto veloce, anche un po' aiutato dal fatto che avevo due piloti a 100 metri da inseguire. Abbiamo fatto un gran lavoro sulla moto, sul setting e penso di avere un buon passo anche per domani. Non ho problemi, ma ancora, step-by-step, sto migliorando la moto, nel Super Polo, ho cambiato un po' di set up e il secondo outing in Super Polo, è stato un buon miglioramento. Per domani, ho un po' di idea di cosa possiamo migliorare per domani. Questo è buono perché questo è stato un peggio per noi, ma ancora abbiamo potuto fare la Super Polo. e sono sicuro per la rata, per ora, abbiamo un grande spazio per domani. Io vedo che i miei team sono forti, conosco Karkosulo, Jacobson. Mi aspettavo anche per la competizione, perché è sempre bello quando hai battuto e se puoi vincere la battaglia. E spero che domani non abbiamo mai buoni e possiamo fare una buona rata. Sì, ho davvero piaciuto questo circuito, è davvero buono, è davvero buono per me l'anno, ho avuto una buona rata. E l'anno prima, ho avuto il mio primo podium, il secondo ero l'anno, e ho spero che per domani sia un wino. Ma abbiamo stato un po' di fronte, già abbiamo avuto un po' di fronte, quindi siamo arrivati in la prima parte 1. Quindi, siamo arrivati in modo in modo, e spero che domani, per domani, sarà più meglio per noi, per noi. Per noi, siamo in una buona rata. Ciao!